La prima del Teatro Verdi di quest'anno, come quella dell'anno scorso e come quella degli anni a venire, è dedicata alla ricerca del CRO. Questo è un fatto molto importante perché mette in rapporto eccellenza del territorio per fare sinergia. Per il CRO è molto importante perché questo vuol dire darci supporto morale ed economico per la ricerca. La ricerca alla quale dedicheremo gli sforzi di questa prima è quella del cancro al seno, che è il primo tumore per il sesso femminile e in particolare all'interno del cancro al seno per il cancro al seno delle giovani donne che è particolarmente pesante sotto il profilo psicologico e sociale.